I gotti qua mi... veramente... tra poco che do il basso e il macre asso, proprio... Asso lì qua, ti sei un dono a te. Ricordiamo qua alla nostra destra che chiesegna di merchandising, chiesegna Raboselle pronte a soddisfare ogni vostra esigenza commerciale. Commerciale, commerciale. Siamo pronti? Dai, vai! Andiamo! Tu dici a me! Passaggio in macchina, che son figlio mio, dico come vai, non sei così io, capirà sto da mio. E me lo copro la cabana, per tutta settimana, mi copro nel prosecco e sul giuco. E me lo copro la media, mi putto sulla sedia, e me lo copro la quarta, ancora si mi torno. Ma come si mi torno, e se così ogni giorno, ma come si mi torno. Da oggi non che casco più, non voglio bevare, vuol camminare, parlare, far riflettere. In piaccia di un luogo bar, non so resistere, ma restai non da me. Ah, 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 cercasi, qualcuno in grado del mortale e tira, che mi riporta a casa mia, la birra se vuoi sia. E me lo copro la cabana, per tutta settimana, mi copro nel prosecco e sul giuco. E dopo la terza media, mi putto sulla sedia, mi bevo anche alla quarta, ma come si mi torno. Ma come si mi torno, e se così ogni giorno, ma come si mi torno. Quando mi vago dentro al bar, mi vendo l'anima, a conoscimiento orno. A conoscimiento orno. E dopo la terza media, mi putto sulla sedia, mi bevo anche alla quarta, ma come si mi torno. A conoscimiento orno. A conoscimiento orno. E se così ogni giorno. A conoscimiento orno. 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 Grazie.